Continua l'addegenza di Vasco Rossi nella clinica privata Villalba Hospital. Tra ieri e oggi intanto sono arrivati tantissimi messaggi di saluto da parte di amici, colleghi e fans. Sentiamo. Ha in camera tv e giornali. Legge e si tiene informato ed è tranquillo nella suite che gli è stata riservata per ragioni di privacy. È la routine delle giornate di riposo forzato nella clinica privata Villalba Hospital dove Vasco Rossi è ricoverato dall'inizio della settimana per una serie a frattura alla costola che il cantante si sarebbe procurato in seguito ad un urto durante un concerto. Una frattura che soprattutto nelle ultime settimane lo ha provato a tal punto da infliggergli dolori lancinanti allo sterno e dalla spalla, costringendolo prima al ricovero per accertamenti e radiografie e poi ad un'intensa cura antidolorifica. Tra le ipotesi c'è anche quella piuttosto plausibile che si sia sviluppata una crescita anomala di un callo osseo come conseguenza della frattura della costola. Insomma niente di grave o di allarmante. La portavoce Tania Sachs ha dunque più volte smentito le voci di un presunto coma farmacologico di una patologia più seria. Intanto tra ieri e oggi sono state tantissime le telefonate arrivate dagli amici e dai colleghi più vicini al Blasco, da Eros Ramazzotti a Marco Materazzi fino alla giornalista Milena Gabanelli. Molti anche i fans che hanno presidiato Villalba nella speranza ovviamente delusa di vederlo o di potergli parlare. Anche gli altri pazienti ricoverati in clinica chiedono insistentemente notizie sulle condizioni di Vasco, mentre sono numerosissime le email di saluto dei fans arrivate in queste ore. Stamattina, così come ieri, verso le 11 è arrivata la compagna Laura che, infastidita dal clamore dei media, ha preferito entrare dall'ingresso secondario. La segreteria di Villalba Ospital infine ha confermato il divieto di visita almeno fino a lunedì.